Ciao a tutti e benvenuti in questo video di unboxing del nuovo Moto G, seconda generazione, nuovo smartphone della Motorola, uscito quest'anno 2014, non ancora in commercio in Italia. Io sono Luca e adesso andiamo a scoprire cosa si nasconde all'interno del pacchetto. Bene, come potete vedere questa è la confezione nella quale è contenuta, è molto simile alla versione precedente che vi faccio vedere. Eccola qua. Come potete già vedere anche dall'imballaggio, questa nuova versione del Moto G è leggermente più grande per l'esattezza 0,5 pollici. Prima erano 4,5, adesso l'hanno fatta arrivare a 5 pollici di grandezza dello schermo. La risoluzione rimane sempre la stessa di 720p e andiamo subito a vedere. Ho già provveduto a tagliare il sigillo che troverete sempre quando comprate le cose nuove. E come prima cosa ci si presenta lo smartphone, naturalmente, ancora con una pellicola protettiva. Questa si può anche tenere se volete, è touch, è compatibile comunque con le gesture che fate. Dietro c'è una cover, c'è una cover che si può togliere, vi facciamo subito vedere. Ecco, come potete vedere bisogna prendere qua e fare un po' di pressione. Non preoccupatevi che magari potrebbe darvi l'impressione che si rompa, in realtà non è così. Io ho già provveduto a metterci una sim, come potete vedere questo modello è dual sim. Adesso, questo è il modello inglese, è stato importato dall'Inghilterra, perché appunto qua in Italia non è ancora commercializzato. Pensiamo che sia anche quello che arriverà in Italia, sia anche quella dual sim appunto, a meno che non facciano una versione apposta. Però intanto gli unici modelli che ci sono in circolazione, anche se non sbaglio in Spagna, sono tutte dual sim. Come processore monta uno Snapdragon 400 da 1.2 GHz, la memoria ha 1 GB di RAM e come memoria interna di capacità ha 8 GB di spazio. A differenza della versione precedente del Moto G, questa come possiamo vedere qua, adesso vi faccio vedere, ecco, oltre alle due porte delle sim, qua sopra c'è la porta della mini SD, la micro SD, che potete aggiungere che prima appunto non c'era nella versione precedente. Adesso avete quindi una memoria espandibile, quindi se avete problemi di spazio, che magari non siete convinti per gli 8 GB, con questo non avrete più problemi. Ecco, come potete vedere per richiudere, basta rimetterla qua, fare un po' di pressione, una volta che sentite che tutto è fatto, è apposta. Questo modello nuovo è leggermente più sottile dell'altro, della versione 2013, lo schermo mi sembra buono, qua potete vedere due barre che sarebbero gli altoparlanti, perché ci sono due altoparlanti stereo. E dentro la confezione troviamo cavo USB, naturalmente per collegarlo al computer, per la ricarica e altro, il manuale d'uso, il manuale in inglese, let's get started, lo potete vedere qua c'è la guida rapida di come usarlo. Ok, e come ultima cosa, qua potete trovare le solite istruzioni per la sicurezza, le cose legali, ecco queste cose qui insomma. Come potete vedere il contenuto non è moltissimo, giusto l'essenziale, ma per il prezzo che vale ritengo che sia davvero un affare. Vi ricordo questo telefono è venduto a circa, al prezzo di 199€ di listino, fate conto che io l'ho trovato a 175€, 174,90€ su Amazon. Non saprei se consigliarvi o meno questa versione, in quanto comunque come specifiche sono identiche, sia a livello di risoluzione, sia a livello di potenza. Diciamo che il cambio potreste farlo solo nel caso abbiate bisogno di una dual sim appunto. Direi che per ora è tutto, poi più avanti faremo il video anche di una recensione su questo smartphone per conoscere meglio le sue potenzialità. Direi che per ora è tutto, poi ci sono le sue potenzialità.